Adesso andiamo con Pinocchio Questo brano è di un grandissimo saxofonista dell'epoca della grande orchestra del maestro secondo Casadei Primo Lucchi Brano inciso nel 1946 Questo brano lo dedichiamo al nostro amico Di San Marino Di San Marino Roberto Ruffilli ha il saxofonato Di San Marino Di San Marino La nostra sessione armi Claudio brucia ferri al violino Qua un giu vanto dalla viola di Antonella Monti Il nostro carinito Ivan Bolognesi Di San Marino 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 che si trova